Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan. Il buongiorno rossonero è da ieri, come promesso, la buonanotte rossonera. Prima di iniziare, qui c'è una manina, se vi va cliccatela, entrerete a far parte gratuitamente del mondo Milan.soccer. Dicevamo da ieri anche la buonanotte rossonera. Infatti sono nate le favole della buonanotte per i bambini milanisti. Le trovate chiaramente sul nostro canale, sia in playlist, sia nel video di ieri. Ad esempio c'è la prima puntata di questo che possiamo definire un podcast per piccoli, ma piccoli anche dentro. La prima puntata è Nosia Boronali racconta Marco Van Basten. Sono 6 minuti e poco più, 6 minuti e 23 secondi se non va derrato. Ed è una favola, una vera e propria favola di un bambino di nome Marco Van Basten. Bene, detto questo, detto questo, è con gioia e gaudio che apro questa puntata di Milan.soccer per dire... Dovete impazzire un'estate di... Dovete passare. Allora, ieri che cosa è successo? Avete visto la copertina? Dicevi? E già perché, voglio dirvelo per bene, ieri il turco, non so se ve lo ricordate, quello che crede che noi siamo disperati della sua assenza, noi lo abbiamo, diciamo, non incitato per il fatto che, insomma, abbia trattato un po' così il Milan, ma, come vedete, cioè, non farai mai parte delle favole della buonanotte, cioè, non rappresenti nulla e nessuno, sei l'eterno secondo, sei arrivato secondo da noi, sei arrivato secondo da loro, sei arrivato anche secondo dentro casa. E ieri è stato bellissimo. Cialanoglu ha attaccato il Pianginenzaghi, ma sono problemi loro, e poi ha attaccato Zlatan Ibrahimovic, dicendo che Zlatan Ibrahimovic non ha inciso per niente sul nostro scudetto, dicendo che Zlatan Ibrahimovic è fondamentalmente un signorotto anziano, comunque... Ora, ti dico una cosa, come funziona tra uomini? Sono due le cose. O una cosa non la dici, tra uomini dico, oppure prendi la persona deputata e gliela dici in faccia. Ora, noi in copertina abbiamo immaginato che tu essendo un uomo gliele vai a dire a Van Basten, oggi c'ho Van Basten in testa, gliele vada a dire a Zlatan Ibrahimovic. Dicevi, e infatti è successo che il signore della Turchia, il signore della Turchia, dopo aver attaccato Zlatan, si narra che vaghi per le strade di Istanbul pentito e spaventato. Bene, detto questo, detto questo, ieri devo dire che girava in rete un post che ho trovato intrigante, molto intelligente, di cui potete prendere visione sulla nostra pagina Facebook Milan Soccer. Che cosa ci racconta? Perché è di questo che oggi vi voglio parlare. Ci racconta di una gazzetta dello sport totalmente scandalosa. Ora, io sto seguendo un po' l'andazzo Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, e poi ancora altri giornali, ma piuttosto testate, diciamo così, come Mediaset, piuttosto che il calciomercato, l'originale. Ieri sera io sono andato a dormire vedendo il calciomercato l'originale e non ce l'ho fatta più, eravamo, sapete che mettono le spunte sulle squadre che vengono trattate. Tutte le squadre di Serie A tutto il giorno, cioè tutti i giorni, e poi mettono la spunta. Così dicono che hanno parlato di tutto. Erano rimasti Udinese e Milan, io me ne sono andato a dormire, perché dopo la Cremonese... Le prime squadre sono Inter e Monza. Queste sono le squadre di cui parlano tutte le sere. Del Monza. Del Monza. Comunque, siccome bisogna certificare le cose perché poi se ne perde il vento, qui abbiamo 11 giugno, 12 giugno, 13 giugno, 14 giugno, 15 giugno, 16 giugno, quindi 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a 7, 18, 19, 20, 21 e 22. 12 giorni. Stamattina ancora non l'ho vista, ma a mezzanotte parlava dell'arrivo di Mkhitaryan, di questo arrivo, non c'era nessuno. Non c'era nessuno, Mkhitaryan. L'11 giugno, l'Inter marca Lukaku, 12 giugno, questa è la prima pagina, l'Inter l'ora della gioia, 13 giugno, Di Bala, primo sì, quindi vedete quante cappelle, 14 giugno, Lukaku, si può, 15 giugno, Inzaghi vota Lukaku, 16 giugno, mi manda mamma, con la foto a tutta pagina di Bala con la maglia dell'Inter, 17 giugno arriva Lukaku, 18 giugno, Skriniar, 19 giugno nasce un Inter a tre stelle, tutta pagina, 20 giugno, Lukaku, ci siamo, quasi, 21 giugno, troppa Inter, 22 giugno, Inter, mi sei mancata, io dico, allora, certifichiamo le cose, due sono, o non sapete fare giornalismo, oppure, qualcuno, puntini, puntini, se il calciomercato è l'originale, apre con l'Inter, se la gazzetta dello sport apre con l'Inter, se Mediaset apre con l'Inter, non venite a raccontarmi che sono scelte editoriali, quindi, caro Maldini, non so come voi facciate, non so come tu faccia, ma qui c'è un problema serio di comunicazione, e arrivo anche al mio amico Domenico Mimmo del canale, che vi invito a seguire, DNA Rosso Nero, dove si fanno molte dirette, che ieri mattina ha lanciato un video provocazione, un video provocazione perché? perché qui è pieno di fake news, qui non nel canale DNA Rosso Nero, al contrario, dico qui, gazzetta, corriere, compagnia cantante, lui era lanciato una provocazione, dicendo che nella notte, Maldini è andato a Madrid, che ha riportato con sé Benzema, quindi Milan ha acquistato Benzema, dovevate guardare tutto il video, guardatelo, è uscito ieri mattina alle 8, alla fine del video si diceva, non è vero, è una fake news, ma tanto qui tra bombe, mine, clamori vari, c'è qualcuno che spara più bombe di Putin, ogni giorno c'è una bomba, però proviamo, proviamo, proviamo a fare un po' di sensazionalismo, perché vi racconto di DNA Rosso Nero? Vi racconto perché Mimo, che secondo me ha fatto un gesto che a mio modo di vedere va rappresentato, io ho insegnato in una scuola di giornalismo, va rappresentato in tutto e per tutto, all'interno di un'aula, per far capire come il sensazionalismo paga più di una notizia, acquisita con grande sofferenza, per quanto non sensazionale, ma vera, è stato attaccato, criticato, ora, poi bisogna vedere la percentuale di quando, io ho visto i commenti, mi sembrano che sono tanti quelli che hanno apprezzato, come Tribù Rossoniera, eccetera, insomma, canali che sono sul pezzo, diciamo così, per cui, bravo Mimmo, oggi avrei voluto fare un video senza notizie, però per dimostrarti che se esiste la fake news, è perché esiste chi ama la fake news, perché se tu fai un video, anche come questo, in cui non diamo nessuna bomba di mercato, ecco che vedrai che le visualizzazioni sono molto meno che scrivere bomba, quindi, noi, in questo senso, stiamo portando avanti invece un'altra campagna, proprio legata alla comunicazione, e cioè che il Milan non ha la comunicazione, il Milan è discreto, come dice Scaroni, sì, sì, sarà anche discreto, però tutti i giorni, quindi diciamo, dall'11 al 22, parliamo di 12 giorni di Gazzetta dello Sport, e sicuramente anche stamattina, perché comunque ci sarà, adesso se io vado sulla Gazzetta dello Sport online, vedrete che ci sarà, ieri sera c'era Mkhitaryan, tutta la passeggiata di Mkhitaryan, oggi c'era Juventus, sempre in pagina, eccolo qua, Cialacusa, Scudetto al Milan, derby decisivo, perso per colpa di Inzaghi, cioè perché Inzaghi l'ha tolto, lui è Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maradona, bene, dobbiamo pensare ad un piano che ci porti ad essere più furbi, perché loro stanno impazzendo, sono pieno di tic-tocco un po' impazzite, ma quale impazzite, avete pensato, un'estate di merda avete passato, ve lo voglio proprio dire, state passando e noi continuiamo a festeggiare, ieri tra l'altro la Gazzetta dello Sport, proprio ieri sera, diceva una frase allucinante, dopo un mese dallo Scudetto, perché del Milan parla, la Gazzetta ma ne parla male, dopo un mese di Scudetto, dopo un mese dallo Scudetto, dal 22 maggio, ecco cosa è cambiato, tutto distrutto, non è cambiato un cazzo, niente è cambiato, niente, noi stiamo festeggiando, gli altri stanno rosicando, il campionato, il mercato è fermo per tutti, la Juve non ha preso nessuno, l'Inter ha preso Lukaku, Lukaku, ha riaccolto a braccia aperte Lukaku, e vabbè prendete chi vi pare, è Mkhitaryan, poi dall'altra parte, nessuno ha preso nessuno, però il Milan, allora caro Paolo Maldini, che sai, ti voglio un bene dell'anima, fa parte della mia famiglia, anche se non ci siamo praticamente mai visti, bisogna che tu, dico praticamente perché io l'ho visto, ho visto tante partite, io sono agì, quindi ho visto tante partite, sul Pullman alla festa del 22 maggio, eccetera, eccetera, bisogna che metti mano al problema della comunicazione, noi non abbiamo comunicazione, e bisogna alzare un polverone, anche per lo scandalo di questi giornali, che onestamente pompano pompano il popolo, e il popolo bue si lascia pompare, ma noi no, Milan.Soccer no, ciao, buona giornata!